Gentili telespettatori, buona giornata. La mossa di Giorgia Meloni. Adesso vi racconto che cosa è successo e fatevi voi una vostra opinione. Da una parte c'è il problema Copassir che non è stato ancora risolto. Il Copassir spetta all'opposizione, in questo momento all'opposizione c'è Giorgia Meloni, ma la presidenza del Copassir per il momento è in mano a Matteo Salvini con un suo uomo, un suo politico. Fratelle d'Italia chiede il Copassir, la Lega non lo molla. Adesso c'è la mossa di Giorgia Meloni su un altro campo e mette seriamente in difficoltà Matteo Salvini, che per non rischiare di fare cadere il governo. Che cosa succede? Fratelli d'Italia annuncia una mozione di sfiducia individuale nei confronti del Ministro della Salute Roberto Speranza. Una mozione di sfiducia viene votata in Parlamento e se Speranza viene sfiduciato deve dimettersi, obbligatoriamente. E un fatto del genere, una sfiducia a un Ministro potrebbe comportare anche la caduta del governo. Matteo Salvini continua tutti i giorni a criticare Roberto Speranza, dalla mattina alla sera dicendo che è inadeguato e chiedendo a Draghi il licenziamento, l'allontanamento, l'invio ad un altro incarico di Speranza. Voi sapete intanto che Draghi realmente non lo può licenziare, può indurlo a dare le dimissioni, ma non lo può licenziare, così dice la legge. Adesso la Lega che farà? Se vota con la mozione di sfiducia con Fratelli d'Italia rischia di far cadere il governo, si mette contro il governo, dovrebbe poi uscire dal governo. Così Giorgia Meloni fa una sorta di scacco matto, dice bene tu critichi Speranza tutti i giorni, io ti dico facciamo la mozione di sfiducia e Salvini è messo in un angolo. A questo punto Giorgia Meloni fa scacco matto, dice bene Salvini adesso cosa fai? Come? Non voti la sfiducia con noi. Tutti i giorni dici di cacciare Speranza, noi facciamo una mozione parlamentare per cacciarlo e tu non lo voti? Infatti la Lega sarebbe intenzionata a l'astensione. La Lega che all'interno della maggioranza è da tempo fortemente critica nei confronti di Robi Speranza. Per salvaguardare la Lega e Matteo Salvini, per salvaguardare la stabilità politica e la tenuta del governo guidato da Mario Draghi, non voteranno a favore dell'emozione di sfiducia Speranza, optando probabilmente per l'astensione o l'uscita dall'aula. Forza Italia e Forza Italia invece che farà? Che ha quasi sempre votato contro le emozioni di sfiducia individuali, quasi sicuramente voterà contro. Scontato il sostegno a Speranza da parte di 5 Stelle, PD e Leo. Quasi certamente anche Italia. Viva! Fratelli d'Italia dice abbiamo ascoltato per l'ennesima volta il Ministro Speranza e siamo sempre più convinti della sua completa inadeguatezza a continuare a ricoprire il ruolo di Ministro della Salute. Comunichiamo pertanto la nostra intenzione di presentare una mozione di sfiducia individuale firmata già da tutti i parlamentari di Fratelli d'Italia e sulla quale auspichiamo la convergenza di tutti quei colleghi che come noi vogliono la sua immediata rimozione per il bene della nazione. Vedremo chi ci starà e chi invece si assumerà la responsabilità di tenere Speranza esattamente dove sta. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. Fratelli d'Italia a centrodestra voti la mozione di sfiducia di Speranza. Tra il salvare vite umane o salvare la propria reputazione, il Ministro Speranza ha preferito tutelare la propria figura e l'operato del governo giallorosso, attuando una serie di inaccettabili omissioni e dichiarazioni mendaci che si sono rivelate fondamentali nella disastrosa gestione della pandemia. Lo dichiara Davide Galantino, deputato di Fratelli d'Italia, che aggiunge Speranza ha fallito creando un danno incalcolabile per la nazione e per questo presentiamo una mozione di sfiducia. Ci auguriamo che anche altre forze politiche a partire da quelle di centrodestra votino questa mozione che vuole tutelare gli interessi degli italiani, aggiunge Galantino. Attenzione che il problema adesso è abbastanza serio, ma adesso più che il problema di speranza. Con la mozione di sfiducia, speranza sì, speranza cacciato, il problema di questa mozione di sfiducia, che è un problema non per speranza, perché probabilmente si voterà e la mozione di sfiducia non passerà. La maggioranza vince e si tiene speranza. Com'è auspicabile che succeda? La maggioranza è immensa, c'è solo i parlamentari di Fratelli d'Italia che rispecchiano, attenzione, il voto nel 2018 quando Fratelli d'Italia non aveva il 19%, quindi ha pochi parlamentari e senatori. La mozione di sfiducia, oltre che essere un atto simbolico, l'opposizione chiede la destituzione del ministro. Hanno ragione, però è un atto simbolico perché verrà respinta, ma mette in serissima difficoltà la Lega che sta tutti i giorni dicendo speranza, speranza, da cacciare, da cacciare, da cacciare. Giorgio Aminoni dice adesso lo cacciamo e voi votate con noi giustamente, tutti i giorni parlate di speranza, non potete non votare con noi. Questo è il problema che farà discutere molto gli elettori anche su questo canale, sono sicuro che farà molto discutere e ci saranno anche dei movimenti di elettori anche su questo, perché se realmente la Lega non vota per sfiduciare speranza che tutti i giorni dice che va cacciato, sarà un problema per la Lega. La Lega dice beh io lo voglio cacciare ma non posso mettermi contro il governo, lo dovrebbe cacciare Draghi, non con una mozione di sfiducia dell'opposizione perché noi facciamo parte della maggioranza. Un bel problema, io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata.